Ieri mattina eboli i carabinieri hanno arrestato due uomini entrambi originari del posto, responsabili di un furto di ingente materiale ferroso e per deviatori di binari nei pressi dello scalo ferroviario di eboli San Nicolavarco. Il valore della merce recuperata ammonta circa 4.000 euro ed è stata restituita al personale delle ferrovie dello Stato. Condotti in caserma, i due sono stati successivamente portati presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari.